In un'intervista al Tg2 il premier sloveno Janes Janša ribadisce il sostegno a Kiev nella crisi con la Russia ed è a favore dell'allargamento dell'Unione Europea e i Balcani Occidentali. Il nostro inviato Andrea Romoli. Presidente Janša, il mondo e l'Europa seguono la situazione in Ucraina con il fiato sospeso. La Slovenia insieme ad altri paesi europei e non solo condivide la preoccupazione per quanto sta succedendo. Ci stiamo impegnando in tutti i modi per evitare che la crisi sforci in conflitto, ma nel contempo sosteniamo in modo convinto il diritto di ogni paese di poter decidere sulla propria politica estera, sull'adesione all'Unione Europea e alla Nato. Conseguentemente riteniamo che paesi terzi, in questo caso la Russia, non debbano porre alcun veto all'autodeterminazione dell'Ucraina. Altro tema caldo è l'allargamento dell'Unione ai Balcani. L'allargamento dell'Unione Europea ai paesi dei Balcani occidentali è l'unica possibile prospettiva positiva per questa regione. Con ciò si andrà a togliere uno dei motivi principali delle controversie e dei conflitti, ovvero la questione dei confini. L'adesione all'Unione Europea infatti fa passare in secondo piano le discussioni sui confini, sui torti subiti in passato e su altre questioni conflittuali, mentre fa prevalere lo sguardo rivolto al futuro. Qual è lo stato delle relazioni bilaterali fra Italia e Slovenia? Faccio fatica a dare un giudizio su tutta la storia dei rapporti bilaterali, ma per ciò che attiene alla mia conoscenza, i rapporti tra Slovenia e Italia non sono mai stati migliori di oggi e quindi possiamo solo augurarci che tutto ciò duri e che sulle attuali basi di rispetto e amicizia si possa costruire il nostro futuro. In Francia una giornata...